Bentornati su Resta Quel Che Resta, io sono Nino e oggi vi parlo del film Collateral Beauty, film del 2016 diretto da David Frankel con un cast di altissimo livello. Protagonista Will Smith, che purtroppo in questi ultimi giorni è al centro dell'attenzione non tanto per le sue capacità da attore, che secondo me sono anche molto valide, ma per quello che è successo agli Oscar. Comunque non devo parlare di questo in questo video. Cast di alto livello, Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Keira Knightley, Helen Mirren, insomma tanti grandi nomi per questo film, ripeto, del 2016, quindi film di un po' di anni fa. Perché vi parlo oggi di questo film? Due motivi. Primo perché ho deciso di portarvi questa nuova serie, questo nuovo format, diciamo così, dove vi racconto, parliamo di recensioni, ma io dico sempre che poi alla fine non faccio recensioni perché non sono un critico cinematografico, assolutamente, mancherei di rispetto per chi lo è davvero, quindi semplicemente mie opinioni. Vi voglio portare ogni tanto dei video su questi film del passato. Può essere un passato recente, può essere un passato lontano, magari è un film che ho già visto e rivedo e poi ve ne parlo, oppure che magari scovo, trovo che non avevo mai visto e appunto poi ve ne posso parlare. più che altro sempre per chiedere la vostra opinione, perché poi ecco, vi chiedo sempre qui sotto, oltre a lasciare like per sostenere il canale, e iscrivervi, di commentare se il film lo conoscete, oppure magari lo andate a vedere incuriositi dal mio video e tornate qui a scrivermi la vostra. Cioè i video vengono fatti per questo, per confronto con voi. Quindi questa serie è qui, questo può essere anche quasi considerato un episodio 2, visto che poco tempo fa vi ho parlato di Festival di Pupiavati, film di circa 25 anni fa, e quindi, diciamo, è già un altro film questo del passato di cui vi parlo, anche se è questo più recente. Questo è il primo motivo, ma il secondo è che questo è un video su richiesta, su commissione. E sì, perché? Perché nel mio primo canale YouTube, il canale dove parlo di calcio, ho attivato gli abbonamenti al canale, per chi vuole sostenermi in quanto creator, e uno dei vantaggi che ho messo in uno dei livelli di abbonamento è appunto questo. Chiedimi un film e io ti realizzo un video dopo averlo visto. Ovviamente così ti dico cosa ne penso e ci confrontiamo. E c'è un mio abbonato, Tono Salvatore, che saluto, che mi ha chiesto appunto un video su Collateral Beauty. E io ho detto, va bene, lo vedo appena riesco e ti faccio il video. Vi dico che se questa cosa vi piace, vi interessa, probabilmente attiverò anche su questo canale qui gli abbonamenti. Quindi chi non mi segue dall'altro lato, ma solo qui, perché gli interessa ovviamente il cinema, il teatro, quello di cui parlo qui, magari potrà, se vuole, sostenermi e anche usufruire di questa possibilità. Allora, ho visto ieri, proprio ieri rispetto a quando sto registrando questo film, per la prima volta, perché non lo conoscevo, perché non lo avevo già visto, e ve ne parlo. Quindi parlo non solo per Tono, per Salvatore, che me l'ha chiesto, ma per tutti. Allora, film interessante. Cioè questo direttore ha le quote di maggioranza di uno, come dire, uno studio pubblicitare, insomma, che si occupa di pubblicità, che è interpretato appunto da Will Smith, che è in uno stato depressivo. In uno stato depressivo perché ha perso sua figlia, sua figlia piccola, questo tre anni prima rispetto a quando si svolgono i fatti, e insomma ci viene mostrato un uomo in forte stato depressivo, quasi ridotto a un vegetale, non tanto nel fisico quanto nella testa, perché ormai è praticamente un essere che vaga, che non interagisce con gli altri, che difficilmente insomma parla, e si sta abbandonando sempre di più dopo questa tragedia che ha vissuto, una delle tragedie più grandi, credo, che si possano vivere, come la perdita di un figlio. L'agenzia che lui dirige sta praticamente cadendo a picco, sta perdendo contratti perché molti clienti, anzi, che si affidavano a loro lo facevano anche per lui, perché evidentemente parliamo di un personaggio dal grande carisma e molto abile nel suo lavoro. Questo suo di staccarsi dall'agenzia sta facendo cadere sempre più giù questa agenzia e sono molto preoccupati tre suoi collaboratori che poi sono anche però suoi amici, quindi sono preoccupati per lui, per il suo stato, ma anche per loro stessi, per l'agenzia e per il loro futuro. E quindi che cosa succede? Decidono di intervenire. Ovviamente hanno provato anche a convincere, l'obiettivo loro è vendere questa agenzia, non possono farlo perché lui comunque ha le quote di maggioranza e lui nonostante tutto quello che sta vivendo comunque non vuole vendere e allora devono trovare insomma un modo per quantomeno convincerlo. In realtà non si trova questo modo e a uno di questi tre viene in mente una idea che probabilmente dal punto di vista morale non è delle migliori considerando che sono anche amici, però sembra l'unica strada, ovvero ingaggiare un investigatore che possa in qualche modo raccogliere delle prove che vanno a evidenziare il suo stato mentale instabile in modo da poter magari vendere l'agenzia anche senza il suo consenso. In realtà non si trova nulla di che, sì è un uomo depresso ma insomma che non ha uno stato mentale precario, diciamo così, ai fini di poter impedirgli di avere voce in capitolo sulla vendita, ecco diciamo così. L'unica cosa che viene trovata dalla investigatrice sono delle lettere che lui ha scritto, non a delle persone ma a delle entità, dei concetti astratti. Ecco, amore, tempo e morte, perché queste tre entità, questi tre concetti astratti sono quelli che poi alla fine muovono noi, la nostra vita, il mondo intero. L'amore, il tempo e la morte. Viene un'idea, un'idea, sempre a questi insomma tre amici, di ingaggiare tre attori, ingaggiare tre attori e chiedere loro di impersonare queste tre entità astratte, quindi dare una voce, un volto delle sembianze umane a queste tre entità astratte con l'idea di farle interagire con lui e quindi vedere se da questo confronto, perché lui è comunque arrabbiato con la morte, con il tempo, con l'amore per tutto quello che gli è successo nella vita, vedere se questo può creare alla fine un cambiamento. Alla fine poi questo cambiamento non c'è, ma comunque l'interagire con queste tre persone, questi tre attori, porterà loro a ottenere il risultato grazie diciamo al fatto che lui parla con persone che non esistono perché vengono manipolati dei filmati. Vabbè, comunque non voglio raccontare troppo perché magari qualcuno adesso lo andrà a vedere questo film e soprattutto non voglio fare spoiler per il finale. Spero di non farli tra poco quando ve ne parlo. Allora, questa è la trama veramente a grandi linee perché questo è un film particolarmente elaborato. Allora, l'idea è buona, vi dico cosa ne penso io. L'idea è buona, mi piace, il cast è di alto livello quindi inutile dire le capacità da attori, dei protagonisti perché stiamo parlando di grandissimi nomi, quelli che vi ho citato a inizio video. E l'idea mi è piaciuta inizialmente perché l'idea di prendiamo questi tre attori che daranno vita a questi tre concetti astratti uno è la morte, uno è l'amore, uno è il tempo a me l'idea è piaciuta e infatti il film scorreva molto bene ma in realtà il film scorre bene per tutta la sua durata circa un'ora e mezza, poco più di un'ora e mezza. Il problema però che non mi fa diciamo promuovere al 100% questo film è che è tutto approssimativo cioè è tutto lasciato lì ogni sviluppo possibile di trama ogni storia, ogni sottodrama perché poi questi tre colleghi di Will Smith ecco diciamo così, del protagonista hanno tutti e tre dei problemi personali e infatti loro stessi andranno a interagire con questi attori e in qualche modo si sfogheranno o miglioreranno comunque la loro esistenza quindi non è soltanto Will Smith protagonista il suo problema è risolvere questo problema ma no, ci sono tantissime sottodrame il problema è che non ne viene sviluppata praticamente nessuna cioè io all'inizio quando c'è stata sta cosa ingaggiamo i tre attori la prima cosa che ho pensato è ah bello, sarà molto interessante vedere gli scambi di battute tra Will Smith e questi tre anche perché io personalmente amo molto il cinema parlato dialogato dove ci sono grandi dialoghi non tanto il film d'azione o di effetti speciali no, proprio i dialoghi e quindi ho detto sarà molto interessante lui che magari dopo un iniziale insomma non capire o comunque magari rifiutare l'idea che si sta trovando di fronte a un concetto astratto che ha preso vita però poi inizia un bel dibattito diciamo così con la morte con il tempo con l'amore in realtà non è così perché se vado ora a memoria lui interagisce con ognuna di queste tre entità tipo due volte e tra l'altro per pochissimo tempo quindi già proprio il concetto in sé del film cade in questo senso e poi ripeto le trame stesse tutte le vicende che riguardano i tre protagonisti adesso non voglio andare proprio nel dettaglio preciso però uno è divorziato e la figlia lo odia perché lo ritiene responsabile del divorzio dalla madre l'altra ha dedicato la vita al lavoro e adesso vorrebbe una vita più normale vorrebbe un figlio e non riesce ad averlo l'altro ha una malattia grave che lo porterà alla morte ma non è riuscito a dirlo a nessuno questo proprio per riassumere al massimo e quindi vedete trame 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 sotto trame ma nessuna viene sviluppata tant'è che ieri pensavo mentre lo vedevo questo film dura poco perché infatti dura un'ora e trentacinque tipo più o meno e a un certo punto del film mi capita ogni tanto mentre lo sto vedendo magari l'ho visto sul mio pc sul chromebook ho fermato un attimo per vedere a quanto stavamo di tempo ed era già passata un'ora mancava solo mezz'ora ho detto sì ma qui ancora fondamentalmente non c'è stato nessuno sviluppo quindi alla fine che succede o che all'improvviso buttano dentro negli ultimi dieci minuti un quarto d'ora tutto cosa che talvolta nel cinema succede e non mi piace oppure alla fine sto film rimane tante intenzioni ma poca poca roba pratica e infatti è proprio quest'ultimo caso quindi secondo me doveva durare un pochino di più invece di un'ora e mezza doveva durare due ore due ore e dieci e utilizzare questi 30-40 minuti in più per sviluppare un po' meglio queste storie magari affidarsi ai sempre utili flashback diciamo così perché poi anche dello stesso protagonista di Will Smith in realtà non ci viene mostrato niente del passato a parte il pezzettino iniziale che lui sta parlando a tutti quelli che lavorano per lui e si capisce che lui è un uomo brillante e tutto però poi nient'altro ora non è che questo sia proprio necessario ai fini della trama insomma del film però il confronto tra il primo e il dopo di questo avvenimento ripeto devastante come la morte di un figlio poteva essere secondo me molto interessante e ci poteva far capire molto di più poi devo dire che anche lo sviluppo finale il lasciare il dubbio nello spogliato nello spettatore del discorso dalla realtà al mistico poi chi ha visto il film già capisce chi lo vedrà lo capirà non mi ha convinto pienamente quindi promosso a metà questo film perché poi questo che sto dicendo adesso potrebbe andare un po' in contrasto con quello che ho detto poco tempo fa nella recensione del film Ariaferma se non sbaglio dove ho detto a me piace quando il film non è che mi dice proprio tutto 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 perché non ha bisogno di sviluppare tutte le trame però questo vale quando al centro del film c'è un'azione ben precisa e si lavora su quello in questo caso nel caso di Ariaferma intendo dire c'era il rapporto tra polizia penitenziaria e detenuti il film era incentrato su quello non c'era bisogno di sviluppare troppo i vari personaggi qui è un po' diverso qui è un po' diverso perché manca anche proprio l'azione centrale che potevano essere gli scontri tra lui il protagonista Will Smith il nome Howard mi pare del protagonista ma parliamo dell'attore per far prima e queste tre entità quindi bei scontri tra questi e quindi poi le sottodrame le potevi lasciare un pochino al caso questo quindi quasi deludente oserei dire perché secondo me invece l'idea di fondo e il cast che c'è stata a disposizione erano di alto livello diciamo questo però è il mio umilissimo pensiero quindi per voi potrebbe essere un film pessimo peggio di come l'ho descritto io oppure un capolavoro assoluto però questo era il mio pensiero quindi ringrazio Salvatore Tono per avermelo fatto scoprire per avermi permesso insomma di realizzare questo contenuto e quindi aspetto poi qui sotto le vostre considerazioni noi ci vediamo nei prossimi video ciao 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 ciao